Cinque persone denunciate, due per droga, una per tentato furto e le altre due per guida in stato di ebrezza. È il bilancio dell'attività di controllo straordinario del territorio dei carabinieri della Compagnia di Bassano. Un 23enne di Rosà è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'amico che viaggiava con lui in auto, un 22enne di Cassola, è stato segnalato quale assuntore. In macchina sono stati rinvenuti Ascish e un bilancino di precisione. È finito nei guai anche un ragazzo bassanese di 18 anni che ha tentato di rubare un paio di pantaloni in un negozio, ma è stato scoperto dalla vigilanza. Denunciati per guida in stato di ebrezza, un giovane di 27 anni di Bassano che ha perso il controllo della macchina finendo contro un mezzo in sosta a Romano e un 75enne del Trevigiano, ad entrambi è stata ritirata la patente. Grazie